Buongiorno a tutti, ben ritrovati oggi lunedì 25 maggio 2015, siamo in diretta come sempre alle 7.30 del mattino per sfogliare i giornali, lo faremo tra poco. Io saluto anche le persone che ci seguono nel corso della mattinata fino alle 8.30 in replica ogni quarto d'ora, poi alle 9.10 alle 13.30, ben ritrovati. Ma anche quelli che ci seguono su internet, quelli che vedono la rassegna stampa on demand come si dice. Allora cominciamo dal santo del giorno, oggi è San Beda, San Beda il Venerabile, sacerdote e dottore della Chiesa che servo di Cristo dall'età di 8 anni Trascorse tutta la sua vita in un monastero in Inghilterra, dedito alla meditazione e alla spiegazione delle scritture Tra l'osservanza della disciplina monastica e l'esercizio quotidiano del canto in Chiesa, sempre gli fu dolce imparare, insegnare e scrivere. Il tempo, vedete qua la foto che è stata scattata pochi istanti fa dalla nostra webcam dell'osservatorio meteorologico di Fano TV che lo ricordo al quale si può accedere attraverso la nostra pagina internet occhiolanotizia.it Oggi sarà una giornata di transizione, le giornate di pioggia infatti sono passate, una giornata di transizione dicevo perché domani torna comunque la pioggia Questa è l'immagine del satellite, il satellite è sulla vostra sinistra con l'animazione e la temperatura alle 7.30 è di 13 gradi Dicevo poi dopo nei prossimi giorni tornerà la pioggia martedì mercoledì e al termine della quale dovremmo godere il primo forse fine settimana con il sole Intanto per oggi, lunedì 25, la protezione civile segnala precipitazioni durante le ore centrali con piovaschi o brevi rovesci sparsi sulle zone interne della regione con le temperature in lieve aumento per domani martedì 26, ancora cielo inizialmente poco nuvoloso con aumento della nuvolosità a partire nel corso della mattinata Poi durante le ore centrali avremo rovesci o temporali nelle zone interne ed occasionali altrove, le temperature stazionarie o in lieve aumento Le condizioni dei prossimi giorni sono condizioni di instabilità con rovesci più probabili nelle zone interne ed occasionali nel resto della regione Un miglioramento come dicevo è atteso per il fine settimana Allora cominciamo a leggere i giornali, abbiamo lo sport con il successo del Fano, abbiamo alcune notizie di cronaca Cominciamo dalla pagina di Fano del Corriere Adriatico, eccola qua Adesca uomini sul web, cioè su internet e poi li ricatta Un fanese si ritrova nudo in un fotomontaggio, interviene la polizia postale È una notizia che mette in prima pagina e credo in esclusiva il Corriere Adriatico di oggi La notizia è che appunto questo adescava uomini su Facebook e tenta di estorcere loro del denaro La storia non è purtroppo la prima e forse nemmeno l'ultima Per cui quando si ha a che fare con la rete internet è necessario non abbassare mai la guardia Questa volta i tentativi truffaldini sono arrivati anche nel fanese Ed intorni ed hanno il volto di un'avvenente donna dai capelli scuri e gli occhi ammagliatori L'approccio inizia con una richiesta di amicizia su Facebook e poi la richiesta di denaro 500 euro per non mettere questa fotografia in rete Evidentemente prima si sono scambiate le fotografie e poi con un fotomontaggio Ecco questa è un po' la storia e nei dettagli potrete leggere questa mattina sul sito Scusate sulla pagina sul giornale Il Corriere Adriatico Poi Il Corriere sempre sulla pagina di Fano si occupa anche del ritrovamento di quei poveri resti Di corpo, un cadavere che a lungo è stato in acqua nei mesi scorsi E che la mareggiata dell'altro giorno ha riconsegnato alla terra, alla spiaggia Non è il corpo dell'anziana scomparsa Si sono fatte delle ipotesi, quella di uno dei marinai che erano scomparsi qualche mese fa In molti hanno pensato, quando è stata data la notizia, che potesse essere l'anziana scomparsa Oppure il pescatore di Gabice Insomma adesso con gli esami Qui il giornale scrive che non ci sono certezze sull'identità del cadavere I quei resti sono stati rinvenuti sabato mattina sulla spiaggia di Fano Ora si attende che il PM affidi l'incarico per l'autopsia Per indagare per quanto possibile la causa della morte E per l'esame del DNA al fine di accertare innanzitutto il sesso della vittima Perché purtroppo era talmente irriconoscibile, messo male questo corpo Che era anche in una ricognizione esterna Impossibile stabilire il sesso di questo corpo Tenta di forzare il cancello della chiesa Invece l'altra notizia che c'è sui giornali questa mattina La chiesa in questione è quella di San Giuseppe al Porto A Lido dove in tanti cercano ovviamente di lasciare la macchina Non c'è il parcheggio E di conseguenza si parcheggia dove si può Il parcheggio della chiesa del Porto fa golo ovviamente Quando si arriva lì si vede questo parcheggio così spesso disponibile E allora uno ci mette dentro la macchina Non sapendo però che poi i frati Agostiniani Giustamente poi a un certo punto devono anche chiuderlo quel cancello E spesso rimangono le auto dentro E allora lì comincia poi il panico Qualcuno poi magari un po' su di giri Non la vuole tanto lunga Cerca di aprire da solo il cancello Quindi forzando la parte Tutto il meccanismo che rende questo cancello Automatico E quindi spesso lo rompe Non è la prima volta che succede Danni per 3.000 euro Questa è la notizia Allora Andiamo avanti sul Corriere Adriatico Dunque velocemente Andiamo su Pesaro No andiamo a Fossombrone A Fossombrone c'è stata un'altra aggressione Un agente della Polizia Penitenziale Un agente di custodia Aggredito in carcere a Fossombrone da un detenuto L'episodio è accaduto nel braccio di alta sicurezza dell'istituto Alcuni giorni di guarigione per il poliziotto Poco tempo fa un recluso aveva coltellato alla gola un compagno Il sindacato adesso chiede tecnologie e sicurezza Mentre a Montellabate il sindaco ora vuole passare alle vie legali Strade e case invase dal fango Cinziaferri agguerrita Chiederemo i danni ai proprietari dei campi Il risarcimento parte da 50.000 euro Oggi un incontro a Montellabate Altre vie del territorio colpite dalle frane E lo vedremo tra poco Nel giorno in cui a Pesaro arriva il segretario della Lega Nord Matteo Salvini A Pesaro c'è la cerimonia dell'alza bandiera solenne alle 10 Qualche minuto prima dell'arrivo di Salvini Caserme oggi aperte e alza bandiera solenne per il centenario della grande guerra Allora oggi dalle 9.30 alle 12.30 le caserme di Pesaro del Monte e la Cialdini Sedi del 28esimo Reggimento Comunicazione Operativa e Pavia dell'Esercito Italiano Saranno aperte al pubblico L'ingresso sarà consentito da viale della Liberazione 7 Poi sempre da Fossombrone Quattro ragazzini salgono sul podio Club, parliamo di sport Sempre a segno Al Gran Premio di Ostia Lido Nella categoria da 9 a 12 anni Conquistati tre bronzi ed un argento I successi del sodalizio di Fossombrone Lotta stile libero Questa è la disciplina Allora andiamo adesso sulla pagina di Senigallia Velocemente la Senigallia insomma anche l'ultima volta L'ultimo maltempo ha creato problemi Frane smottamenti a tre castelli, quattro strade off limits Poi di nuovo sott'acqua, subito una soluzione Danni ad alberghi, campeggio e stabilimenti Operatori preoccupati, servono interventi definitivi Andiamo sul messaggero La pagina di Pesaro In apertura La politica regionale Questa è l'ultima settimana Poi si vota Regionali La sfida dei big Ieri vendola a Pesaro Attacca il PD e il governatore uscente Dice spacca Renziano ante Litteram Oggi Salvini in piazza del Popolo Intanto cresce l'attesa per Berlusconi e Renzi Che parleranno ad Ancona Poi sempre dalla pagina del messaggero A centropagina la foto dei giocatori del Fano Fano travolgente, cinquina al San Nicolò La sosta di due settimane non ha fatto perdere al Fano le buone abitudini Cioè quelle di vincere soprattutto Prova autoritaria e San Nicolò regolato con un sonoro 5 a 1 Nell'esordio ai playoff di serie D Poi andiamo sulle altre pagine del messaggero L'intervista Edoardo Mentrasti Spacca i ceriscioli La commedia è unica Le priorità sono due Il lavoro con un reddito minimo di 600 euro per precari e desoccupati L'altro è il risanamento idrogeologico Su Banca Marche dice La politica non ha controllato Ora speriamo che torni ad essere al servizio dei piccoli imprenditori Serve una finanziaria e poi tutti parlano della sanità Senza concentrarsi sulla prevenzione e sull'assistenza in casa La soluzione c'è tanta insofferenza in giro Io dico basta lamentarsi Siamo noi la vera alternativa al governo Renzi Al PD e a Gian Mario Spacca È candidato governatore di altre marche Questo è appunto Edoardo Mentrasti Ok? Allora andiamo sull'altra pagina Spacca e ceriscioli La sfida sui giovani Sempre dal messaggero L'ex sindaco dice Urbino, capitale europea Gian Mario Una politica mirata Mirata i precari Vabbè, ok Di Battista del Movimento 5 Stelle Riempie le piazze Regione Entriamo e cambiamo tutto Poi Ex AMGA Va evitata ogni bonifica Siamo a Pesaro durante l'estate Questa è la notizia Vendola Vendola che ieri appunto Come dicevamo È stata a Pesaro Spacca, dice A un Renziano Antelitra Il leader di Sella Pesaro a sostegno del candidato Mentrasti Attacca il PD E il governatore Uscente Infine L'assassino si scusa Con la famiglia di Lucia Bellucci A pochi giorni dal processo di appello Ciccolini scrive ai genitori E la mamma dice Di Lucia Non si può chiedere perdono Con una lettera Se tu fossi davvero pentito Non vorresti lo sconto di pena Tra l'altro di questa lettera Se ne è occupata ieri Giuseppe Asano Del Corriere della Sera Con una pagina intera Andiamo sul resto del Carlino Anche qui Ripartiamo da qui La lettera dell'assassino Ai genitori Ho agito Scrive L'assassino Ho agito da persona minorata I parenti della vittima Forse punta ad ottenere Lo sconto di pena Mentre la sorella di La sorella Elisa La sorella di Lucia Dice Il fatto che in 26 righe Questa è la lunghezza della lettera Non ci sia una richiesta di perdono Genera in me Una nuova rabbia E il Carlino ricorda Giustamente Le tappe di questa vicenda Lucia Bellucci 31 anni Di Pergola Viene uccisa Con 4 pugnalate Il 9 agosto del 2013 A Pinzolo In Trentino Dal suo ex fidanzato L'avvocato veronese Vittorio Ciccolini Di 46 anni Dopo una cena al ristorante La pena Nell'ottobre 2014 Ciccolini Da subito Reo confesso Viene condannato A 30 anni di carcere E adesso È fissato Per il prossimo 15 giugno L'appello Dice La sorella di Lucia Se Ciccolini Fosse una persona credibile Dovrebbe rinunciare A difendersi E accettare La pena Di primo grado Ovvero Di passare in carcere 30 anni Verso le regionali Ceriscioli Questa è l'intervista A Vittoriano Solazzi Ceriscioli È solo uno GM Concepito A Villa Fastigi I sondaggi Lo spaventano E dice Vittoriano Solazzi Se vinciamo Faccio l'assessore Alla Sanità E poi c'è un attacco A Mezzolani Sembra tutta Colpa di Spacca Ma il Partito Democratico Aveva un assessore Alla Sanità Di cui non parla Non parla più Non ho mai visto Cancellare così Un poro Assessore Questo Un poro Sta per povero Il segretario regionale Di Alleanza Popolare Di fronte alla chiusura Del PD La candidatura di Spacca Era obbligatoria C'era un programma Da portare avanti Io mi fermo A due mandati Ma Puntini Puntini E dopo quel ma Bisognerà vedere Renzi spera Nell'astensionismo Nicchi Vendola Ieri a Pesaro Gode sulle macerie Della democrazia Mentre stamattina C'è Salvini Alle 11 e mezzo In Piazza del Popolo Dalla Lega Nord Sul PD Marchigiano Invece Vendola Dice la vicenda Con Spacca È un'autocritica Implicita Hanno gli stessi Programmi Poi Per chiudere Allora La pagina Prima dello sport La pagina Di Fano Urbino Carton Se Ha pubblicato il bando Premi in tre categorie Le opere Vanno presentate Entro il 29 giugno Poi Fano Autobloccata Rompono Il cancello Della chiesa Quando il sacerdota Ha chiuso Il cancello Alle 22 e 30 Dell'altra sera Non poteva immaginare Che i proprietari O chi per loro Di quelle vetture Tentassero di spaccare L'apertura del cancello Pur di recuperare Le auto Chiudiamo con La pagina Del calcio Serie D Fano la solita potenza Di fuoco Al Maioventus Fano 5 San Nicolò 1 Dopo un primo tempo Equilibrato San Nicolò Andato in vantaggio Su rigore In Granata Schiantano Il San Nicolò Alla distanza Sotto Il presidente Gabellini Grande squadra Ci teniamo ad andare avanti I Granata Entrano nella top 10 Domenica 31 maggio Si gioca ancora In casa E qui sotto In questo riquadro Il giornale Pubblica In eretto In grassetto Le squadre Che si sono Qualificate Sestri Levante Seregno Alto Vicentino Porto Tolle Poggi Bonsi Il Fano Appunto Viterbese Taranto Rende E poi c'è la decima squadra Ammessa Che è quella Dello Scandici Naturalmente Questa sera Dopo il telegiornale Vi faremo vedere Tutti e sei golle Le azioni Con la telecronaca Integrale Di Sergio Catalani Invece Mi fermo qui Con la rassegna stampa Torno domani mattina Torniamo domani mattina Con Occhio ai giornali 7.30 Stasera invece C'è il telegiornale Con tutte le notizie del giorno Grazie per averci seguito Buona giornata Grazie per avermi seguito Grazie per avermi seguito